Musica Covid salgono i ricoveri nelle terapie intensive, in campagna la curva dei contagi resta superiore, alla media nazionale preoccupa l'aumento dei ricoveri, due vittime negli ospedali irpini altrettanti a Benevento. Positivo anche il sindaco di Caserta, mentre a Salerno esplode il focolaio tra i vigili urbani. Minaccia a Don Patriciello, i clan alzano il tiro, un nuovo messaggio intimidatorio è comparso stamane davanti alla chiesa del parroco di Caivano, sotto scorta dopo gli ultimi attentati. Lui dice non ho paura, faccio il parroco, il senatore ruotolo denuncia, i clan alzano il tiro. Colpo di coda dell'inverno, neve sul Vesuvio in Irpinia, la protezione civile ha prorogato l'allerta meteo in campagna per altre 24 ore, brusco abbassamento della temperatura, la neve è tornata a imbiancare la vetta del vulcano e i monti delle zone interne. Benevento 30 milioni per la stazione del futuro, l'opera rientra nell'alta capacità ferroviaria, RFI ha presentato un nuovo progetto di rifacimento della stazione ferroviaria centrale e dell'area circostante, dopo le obiezioni della sovrintendenza per i beni storici e culturali. Montoro pronto il piano per il Bomba Dei, dalle 6 di domani mattina scatta l'evacuazione dei residenti interessati alle operazioni per la bonifica dell'ordigno bellico. Si tratta di una bomba d'aereo di nazionalità americana dell'ultima guerra. Il sindaco già quinto, siamo pronti. Porto di Salerno, telecamere contro i traffici illesciti, sono almeno 300 i dispositivi di controllo nell'area di movimento dei containers. Il presidente dell'autorità di sistema annunziata assicura che i controlli non mancano. Intanto la DDA indaga dopo il maxi sequestro di cocaina. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con 8 Channel News. Apriamo con il Covid, in Campania la curva dei contagi resta superiore alla media nazionale. Prosegue l'aumento dei ricoveri in intensiva. Nell'ultimo bollettino altre sei vittime, sentiamo. Resta intorno al 18% il tasso di incidenza Covid in Campania, in linea con i dati degli ultimi giorni. Nell'ultimo bollettino sono 7.537 nuovi positivi. Nel report dell'unità di crisi si contano anche sei vittime, tre delle quali nelle ultime 48 ore. A preoccupare è l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva rispetto al dato precedente, mentre calano nelle degenze ordinarie. E sull'allentamento delle restrizioni è di nuovo polemica tra Governo nazionale e Regione Campania. Possono ritornare a scuola liberamente anche i docenti o il personale scolastico non vaccinato e purché non entrino in contatto con gli studenti. Il Ministero della Pubblica Istruzione invita sostanzialmente i presidi a organizzare tornei di burrago, di bridge. Non so che debbano fare i docenti nelle scuole, però non a contatto con gli alunni. Anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha contratto il virus. Ad Avellini invece 788 nuovi positivi. A Francipane di Ariano è deceduta una novantenni di Frigento, mentre al Moscati è spirata una donna di 74 anni di Mercato San Severino. Due vittime al Sampio di Benevento, una donna di 87 anni di Apice e un uomo di 89 di Molinara. A Salerno, focolaio Covid, al comando dei vigili urbani. La situazione del comando di Polizia Municipale a Salerno in questo momento è drammatica. Il medico competente e l'amministrazione decidano di mettere in sicurezza questa caserna a tutela dei lavoratori della Polizia Municipale, a tutela dei familiari della Polizia Municipale e a tutela degli utenti. La cronaca, un'altra minaccia della camorra. Don Maurizio Patriciello, bla bla bla, pemmò. Il cartello legato con il fil di ferro alla chiesa del Parco Verde. Sentiamo. Ancora una minaccia della camorra per Don Maurizio Patriciello, il parroco di Parco Verde di Caivano. Questa mattina è stato ritrovato un cartello davanti alla chiesa con la scritta bla bla bla, pemmò. Lo rende noto il senatore Sandro Ruotolo del gruppo misto Don Patriciello da pochi giorni è sotto scorta dopo che a marzo era stato fatto esplodere un ordigno sempre davanti la chiesa. Mercoledì scorso la commissione antimafia si è riunita proprio nella sua parrocchia. Non ho mai avuto paura e continuo a non avere paura. Io faccio il parroco e continuerò a farlo, commenta Don Maurizio Patriciello, che si è recato immediatamente dai carabinieri a sporgere l'ennesima denuncia. I militari stanno cercando di interpretare il senso di questo messaggio. Di certo è un cartello che arriva dopo il mio incontro di ieri con il ministro Lamorgese dopo la visita qui dell'antimafia. La ministra ha annunciato invece la costituzione di una caserma dei carabinieri proprio a Caivano. Sto per firmare il decreto per cui la tenenza dei carabinieri verrà trasformata in compagnia. È una richiesta che da più tempo era stata fatta e adesso diventa realtà, ma certamente non è che modificando arriveranno più uomini. Ci sarà un territorio che verrà controllato in misura maggiore, con più efficienza, ma c'è bisogno anche di vari altri interventi nei riguardi dei giovani, della società civile. E noi verremo io insieme al ministro Bianchi prossimamente per fare un protocollo di legalità. E intanto dal forum sui beni confiscati alle mafie arriva l'impegno a dare una mano alle associazioni impegnate nella legalità. Vediamo. La regione Campania non lascia solo Don Maurizio Patriciello. È il messaggio lanciato dall'assessore alla legalità di Palazzo Santa Lucia Mario Morcone dopo le minacce subite dal parroco di Caivano. Don Patriciello è un testimone importante della lotta contro la Camorra e di questo siamo a lui particolarmente grati. dovevano assegnargli la scorta, cerchiamo di essergli vicino davvero con affetto e con stima per il lavoro che fa. Parole, quelle dell'assessore regionale, scandite a margine della due giorni espositiva sui beni confiscati alla criminalità che si è tenuta alla stazione marittima di Napoli. A chiudere i lavori, un forum a più voci con gli esponenti della magistratura e del Viminale. La priorità è utilizzare le strutture che nella metà dei casi restano inutilizzate o addirittura abbandonate. Di qui la necessità di un'inversione di tendenza. Un'occasione bellissima che ha messo in contatto vari mondi che hanno bisogno di essere invece sistema sia sotto gli aspetti della prevenzione e della repressione dei reati e in particolare contro la Camorra e le organizzazioni criminali sia sotto gli aspetti invece del decollo di attività di impresa con tante cooperative bellissime che hanno mostrato qui le buone pratiche e che hanno diritto ad essere sostenute, ad essere rese conoscibili ai cittadini per le cose bellissime che fanno. Abbiamo avuto anche un parterre di personaggi assolutamente di rilievo e questo ci arricchisce molto. Un dodicenne in seguito a un improvviso malore è morto questa mattina mentre si trovava nell'atrio della scuola a Cimitile. Nel successo all'istituto comprensivo statale Mercogliano Guadagni dove sono intervenuti i carabinieri, le cause sembrano essere naturali visto che il bambino soffriva di alcune patologie. La salma dopo un'ispezione esterna è stata riconsegnata ai familiari per i funerali. I carabinieri hanno accertato che appena il ragazzo accusato il malore è stato immediatamente soccorso, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Mal tempo su tutta la campagna, prorogata fino a domani l'allerta meteo gialla della protezione civile, violenti acquazioni su Napoli e torna la neve sul Vesuvio e nella Vellinese. Vediamo. Il mal tempo non lascia la campagna, coda dell'inverno in queste ore e la protezione civile regionale ha ulteriormente prorogato l'avviso di allerta. Meteo gialla in vigore fino alle 14 di domenica 3 aprile. Si prevedono ancora temporali, venti forti e mare molto agitato, con possibili mareggiate. Calano anche le temperature e il Vesuvio è nuovamente ricoperto da un suggestivo manto bianco. Violenti acquazzoni sulla città di Napoli, anche nella Vellinese è tornata la neve, in Irpinia non sono mancati gli incidenti stradali. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grotta Minarda è intervenuta a Flumeri sulla statale 91, incontrata a Tre Torri, dove un'auto è sbandata e si è ribaltata. Alla guida una donna del posto, che non ha subito grosse conseguenze, è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti. Disagi anche nel Salernitano. Nella Piana del Sele il fiume Calore è esondato nell'area di Borgo Carilia. Si è ingrossato anche il fiume Sele, attentamente monitorato da forze dell'Ordine e Protezione Civile. Allagamenti un po' dappertutto, con danni alle serre, che gli agricoltori stanno verificando. Preoccupazione per i raccolti a causa della grandine, che si è abbattuta in queste ore nella zona. Smottamenti anche in costiera amalfitana. A causa del mare grosso, fermi i traghetti. Cambiamo argomento. Un fondo collettivo per lo spettacolo in campagna. L'Agis chiede un tavolo con il ministro Franceschini per rilanciare il settore. Sentiamo. Presto un tavolo al Ministero della Cultura per discutere con gli operatori del settore, il ministro Dario Franceschini, e la partecipazione del ministro per il Sud, Mara Carfagna, i temi legati alle risorse del Fondo Unico per lo spettacolo. E' quanto emerso nell'incontro sullo spettacolo in Italia tra sviluppo e territori, promossi nel Teatro Mercadante di Napoli dall'Agis della Campania, presieduta da Luigi Grispello. Sarà anche l'occasione di illustrare da parte del Presidente della Svimez, il professore Giannola, un focus sulle performing arts e quindi nel campo questi ritardi che ci sono e queste asimmetrie che ci sono per quanto riguarda l'attività dello spettacolo dal vivo. E quindi ci saranno indicate tutte le specificate, tutte per quanto riguarda teatro, musica, danza, ci sarà un'analisi approfondita su questi temi. A prendere parte all'incontro anche il Presidente dell'Agis del Veneto, Franco Osnoser. Ma sono computate molte cose. La sala, sia cinematografica che dallo spettacolo dal vivo, è l'ultimo presidio di riflessione collettiva delle nostre comunità. E quindi noi dobbiamo sempre di più pensare che la libertà delle nostre comunità, la libertà di pensiero individuale e collettiva, passa attraverso la riflessione collettiva. Oggi è la giornata della consapevolezza per l'autismo. Sittin di protesta dei genitori di bimbi autistici davanti l'ASL di Avellino. Vediamo. Striscioni eloquenti, dei toni molto duri. Per sottolineare come l'ASL di Avellino stia abbandonando le famiglie e i loro ragazzi autistici. Sittin di protesta davanti agli uffici di via degli bimbo dei genitori dell'associazione Inau. Incontra autismo. Noi con gli over 13 abbiamo grosse problematiche, perché sono totalmente abbandonati. Mio figlio è 5 anni che è stato totalmente abbandonato dall'ASL. Se questo significa fare assistenza ai ragazzi autistici, io non vedo come possiamo continuare ad andare avanti così. Il sindaco Festa ha promesso che a breve consegnerà il centro di valle all'ASL, la quale poi in tre mesi dovrà renderlo operativo. Ma i genitori chiedono altre terapie per tutti. Non è sufficiente solo aprire quella struttura. Se noi calcoliamo che oggi abbiamo circa 400 autistici in provincia di Avellino, per 10 posti, 15 posti a Sant'Angelo dei Lombardi, 20-30 posti a valle, e il resto che fanno? Allora perché noi incominciamo a dare le terapie EBA cognitivo-comportamentali? Loredana è la mamma di Paolo, 12 anni, chiede solo di poter condurre una vita normale con la sua famiglia. Che ci diano la possibilità anche a noi genitori di continuare a lavorare, perché nel momento in cui non abbiamo un appoggio, a prescindere dalla terapia, la città di Avellino non ha neanche una struttura presso la quale un genitore possa essere sicuro di portare il proprio figlio che faccia, voglio dire, un'attività, non che possa essere messo in un centro per stare lì parcheggiato. Un'opera dal costo di 30 milioni di euro che rientra nell'alta capacità ferroviaria, RFI ha presentato il nuovo progetto della stazione di Benevento-Fallarino. Passa da 25 milioni di euro a 30 all'importo previsto da reti ferroviarie italiane per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria centrale di Benevento. Un progetto ripresentato nelle ultime ore dopo che la soprintendenza aveva bocciato il precedente. RFI ha presentato al comune di Benevento la nuova opera di riqualificazione della stazione centrale, che interesserà sia lo storico fabbricato che l'area circostante per offrire finalmente un terminal e un parcheggio per viaggiatori e per chi aspetta le persone che arrivano in treno. La stazione di Benevento è una stazione che ha un pregio storico. RFI ha prodotto un nuovo progetto che ieri è stato presentato. Si è passato dai 25 milioni ai 30 milioni di euro. È stato previsto in effetti una foresteria per l'università, una maggiore friabilità in termini di spazi. RFI ha previsto anche questa possibilità e quindi oggettivamente ritengo che sia stato fatto un grosso passo in avanti. Alta capacità, alta velocità che procede spedita nella realizzazione delle nuove opere per la costruzione della linea ferroviaria veloce Napoli-Bari, che transiterà per Benevento e altri centri del Samnio e dell'Irpinia. Indubbiamente si sta procedendo, i lavori procedono con celerità e io ritengo che saranno rispettati anche i termini stabiliti che insomma prevedono per il 2026 della fruibilità di questa tratta dell'alta capacità Napoli-Bari. C'è curiosità a Salerno dopo la firma dei contratti di locazione dei locali di Piazza della Libertà. I cittadini, i residenti sperano ci possa essere anche una maggiore vigilanza in zona. Sara Butte C'è tanta curiosità a Salerno per i nuovi locali che si troveranno nel sottopiazza di Piazza della Libertà. Dopo la firma dei contratti di locazione possono partire i lavori. Nei prossimi mesi si ridisegnerà dunque la location della movida cittadina. Sicuramente c'è un po' di curiosità ma soprattutto c'è una riflessione se questi locali effettivamente possono essere utili alla bisogno, alla prospettiva. A mio avviso è una scelta felice. Assolutamente bella, una bella iniziativa, una bella idea, ottima, decisamente ottima. Bene, mi fa piacere, sì. Almeno per me è una zona meravigliosa perché abito vicino e quindi per me è una libertà. Penso che sia una bella idea sul modello di Barcellona forse. Va bene, è una buona idea. Secondo me la movida è morta, non si rianima più. Però se fanno delle cose interessanti può darsi che ritornano. Sicuramente sarà un lato positivo per quanto riguarda la città e questa bella piazza che è stata istituita qui. Vediamo un poco come andrà. E' anche un discorso di sicurezza, sicuramente ci sarà più attenzione. Questa è una cosa da fare, ma non solo qui, ma in tutta la città. A Montoro pronto il piano per il Bomba Day. Dalle 6 di domani mattina scatta l'evacuazione dei residenti dalla zona rossa per la bonifica dell'ordigno bellico ritrovato sui binari della ferrovia. Sentiamo. Bomba Day a Montoro ci siamo. Domani 52 nuclei familiari per un totale di 165 persone saranno evacuati durante le operazioni di rimozione della bomba rinvenuta lo scorso 23 febbraio alla frazione Preturo. Una bomba ad aereo di 127 chili rinvenuta durante i lavori per l'elettrificazione della tratta ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento. In campo una task force messa a punto in prefettura con forze dell'ordine e comune di Montoro. Dovranno abbandonare le loro abitazioni residenti nella zona rossa in un raggio d'azione di 826 metri dall'ordigno. Saranno ospitati presso l'istituto Pironti alla frazione Piano mentre i positivi al covid troveranno ricovero nel lab vaccinale di Misciano. Per le operazioni di disinnesco e brillamento serviranno circa 12 ore. Noi abbiamo insediato il COC da stamattina quindi ci saranno 10 oltre alla Polizia Municipale che chiaramente deve fare una serie, ha già fatto una serie di servizi poi ci sarà il COC che è operativo con una decina di persone soltanto del municipio ma ti ripeto, io ti indico il numero della protezione civile che sfiora i 70 elementi a questi aggiungi quelli di Ferrovia del Stato, Polizia, Stradale, Carabinieri riguarda di finanze c'è veramente una disponibilità di risorse umane che deve rendere e trasferire a tutta la popolazione montonese un'assoluta tranquillità la protezione civile ha messo a disposizione dei droni quindi una volta evacuata la zona avremo anche comunque un controllo di tutta la zona proprio per evitare intrusioni in quella che è la zona rossa Audizione in regione a metà della prossima settimana per il manager del Sampio di Benevento dopo il caso sollevato dal consigliere regionale Abbate Maria Teresa De Lucia Si terrà a metà della prossima settimana l'audizione del manager dell'ospedale Sampio alla quinta commissione permanente sanità e sicurezza sociale della regione presieduta da Vincenzo Alaia lo annuncia ad otto channel il consigliere regionale Gino Abbate a margine della festa del medico Sannita tornando sui problemi sollevati nei giorni scorsi Io ho fatto una richiesta di aduzione del manager perché è giusto che se ne discute nella sede istituzionale presso la quinta commissione di cui faccio parte se ne parlerà giovedì spero che il manager venga per chiarire la sua condotta E sul caso è da registrare la posizione della maggioranza dei primari dell'ospedale che in una lettera alle istituzioni si sono schierati con Ferrante difendendo il lavoro svolto per la struttura ma Abbate ribadisce Io ho sollevato un problema etico e morale cioè l'incerenza della politica sulle scelte sanitarie e io credo che trasparenza, correttezza, professionalità debba essere al primo posto per quanto riguarda le scelte dei primari che il manager, che la diretta emanazione della giunta e quindi il presidente Luca debba fare sul territorio E poi evidenzia le carenze che affliggono il nosocomio Fermo le santo che ci sono una serie di criticità per quanto riguarda il San Pio che vanno dal pronto soccorso dalla lunghezza d'attesa da reparti non aperti c'è il padiglione d'emergenza che funziona al 50% ma anche nel stato operatorio per l'ortopedia o Torino c'è una grave situazione che è legata ad una programmazione non attenta il posto covid ha rivelato la tragicità dell'organizzazione dell'ospedale San Pio Al porto di Salerno ci sono già 300 telecamere da altre ne arriveranno il presidente annunziata assicura che i controlli non mancano dopo il maxi sequestro di cocaina nello scalo vediamo Il sequestro di 157 chili di cocaina che sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato 70 milioni ha riacceso il dibattito sul porto di Salerno da tempo il procuratore capo Giuseppe Borrelli ha individuato lo scalo cittadino come uno dei crocevia dei traffici illegali della droga ma il presidente dell'autorità di sistema Andrea Annunziata sottolinea che il porto di Salerno non è terra di nessuno ed è sorvegliato da una fitta rete di telecamere La video sorveglianza non credo che potra scoprire almeno l'ultima parte perché ripeto circa 300 telecamere di tutti i concessionari poi specialmente la parte di Gallozzini dove arrivano tutti i container è ben sorvegliata pure da loro Allo stesso tempo la guida dell'autorità di sistema ribadisce che gli occhi elettronici da soli non bastano e servono controlli incrociati dai porti di partenza dei containers anche se l'attenzione è massima e altre telecamere sono in arrivo Quando arriva qui il container con mica si vengono a controllare tutti i container noi stiamo completando per maggio sarà completato con Leonardo che è la migliore una delle migliori aziende italiane di fin meccanica per la sorveglianza completiamo ma ripeto il 90% è già controllato ben controllato poi poi devo ringraziare io come cittadino prima di tutto le forze dell'ordine e del porto di Salerno Intanto la DDA prosegue le indagini dopo il maxi sequestro di cocaina la droga nascosta tra le banane era stipata in due container partiti dall'Equador Sviluppo del territorio 500 milioni del PNRR per le aree interne in Irpinia in particolare coinvolti 59 comuni 500 milioni dal PNRR per le aree interne il mezzogiorno riparte con lui l'Irpinia 59 comuni della provincia di Avelino possono accedere a questo avviso pubblico del Ministero per il Sud per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità ha illustrato i dettagli il consigliere per la strategia nazionale aree interne Domenico Gambacorta se presentano progetti esecutivi di qualità che riguardano ovviamente le priorità che sono indicate nell'avviso credo che si possa raggiungere un obiettivo anche maggiore naturalmente questo è un bando riservato alle aree interne di tutta Italia sono 3.800 comuni la metà quasi dei comuni in provincia di Avelino potrà partecipare e credo che insomma si possano candidare entro il 16 maggio con ottime progettazioni se togliamo se togliamo le strade che non possono essere finanziate dal PNRR cioè praticamente di tutto il bando è stato come dire redatto nell'ultimo mese e mezzo ovviamente tiene conto anche della tragedia dell'Ucraina e del fatto che queste persone dovranno trovare accoglienza parallelamente ci si muove sulle ZES le zone economiche speciali anche qui l'Irpini aspetta una svolta con la piattaforma logistica in Valle Ufita la campagna ha ottenuto 123 milioni di euro 26 milioni di euro la provincia di Avellino per la piattaforma logistica in Valle Ufita intorno alla stazione il commissario della ZES Giosi Romano è già operativo conta per fine anno di pubblicare la gara anche per quello che riguarda appunto la stazione logistica su cui faremo il punto nei prossimi giorni con RFI ed è tutto per stasera grazie regia ad Orlando Matarazzo buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti